Caterina Traversone ha più di un secolo, ma su di lei la vecchiaia può solo chiamarsi esperienza. 102 anni appena compiuti e trasformati in una festa di tutti, così ha voluto col suo piglio generoso e deciso questa bisnonna, invitando tutti gli ospiti della casa Gasparini di Pieve Dugliara, gli operatori della struttura, i familiari e gli amici. Tutti, anche chi potesse cantarle le canzoni a lei più care, quelle della montagna. A Pieve sono infatti arrivati con strumenti e corde vocali, i musetta e il coro Amici delle Valli. Caterina, nata a Vico Soprano di Rezzoaglio, è mamma di cinque figli, cresciuti giorno dopo giorno insieme al marito Guglielmo Maraspina, a Orezzoli di Ottone. Contadina tenace, con il marito si conobbero tra i pascoli dell'Alta Val Trebbia. Il suo cuore è in montagna e lo ha dimostrato anche in questa data speciale con la musica della sua terra. Guglielmo Maraspina, nata a Vico